Andrea Melchiorre di Uomini e Donne, il gesto inatteso di Giulia Uomini e Donne, il gesto shock di Giulia Latini per Andrea Melchiorre. Come molti fan di Uomini e Donne sapranno bene, Andrea Melchiorre e Giulia Latini hanno avuto nelle ultime settimane un flirt. Purtroppo però non è durato perché proprio l'ex tentatore di temptation Island è stato sorpreso dai paparazzi a baciare un'altra ragazza in un noto locale in Sardegna. A quel punto i due non solo si sono lasciati, ma hanno iniziato anche una battaglia social. Finita qua? Nemmeno per idea perché pare che i due si siano chiariti. Difatti, proprio nelle ultime ore i due hanno iniziato a seguirsi nuovamente su Instagram. Inoltre proprio Giulia è tornata a commentare le foto pubblicate dal suo ex fidanzato sul noto social network fotografico. Ovviamente, nemmeno a dirlo, i tantissimi estimatori si sono immediatamente riversati sui social per chiedere loro se abbiano fatto davvero pace. Comunque sia, al momento, i due hanno preferito trincerarsi dietro a un fragoroso silenzio, non alimentando ulteriormente i pettegolezzi. Davvero Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono chiariti? Ci potrebbe essere la remota possibilità che si siano rimessi insieme? Chissà, intanto sembra che non ci sia un solo giorno in cui non facciano parlare in rete. Andrea Melchiorre e Giulia Latini di Uomini e Donne sono tornati insieme? Ma cos'è successo in queste ultime settimane tra Andrea Melchiorre e Giulia Latini di Uomini e Donne? Per i pochi che non lo sapessero i due giovani hanno iniziato a frequentarsi. Purtroppo però l'ex tentatore di Temptation Island l'ha tradita con un'altra ragazza. A quel punto è successo davvero il finimundo, tanto che i due hanno iniziato una furiosa polemica sui social con scambi di reciproche accuse. Ma non è finita qua perché successivamente Giulia Latini ha iniziato a frequentare un altro tentatore del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, con il quale è stata anche sorpresa a baciarsi appassionatamente. Però, forse, con quest'ultimo è stato solo un brevissimo flirt visto che pare essersi riavvicinata ad Andrea Melchiorre. Insomma, nonostante la nuova edizione di Uomini e Donne sia ormai alle porte, sembra davvero che i protagonisti delle passate edizioni non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. I due si saranno rimessi insieme? Avranno fatto pace buttandosi le polemiche alle spalle? Queste e tante altre le domande che si stanno ponendo i loro estimatori sui social.